Fred Film Radio mostra l'internazionale d'arte cinematografica di Venezia ottantesima io sono Angelo Acerbi qui con Giorgio Verdelli per Enzo Iannacci vengo anch'io e siamo di nuovo qui un anno dopo che sei venuto anche tu col tuo solito classico omaggio che non è una biografia ma è un omaggio tu non vuoi mai fare biografie perché non possono mai essere ma sai soprattutto un personaggio come Iannacci per fare una biografia ci vorrebbero tre puntate quindi non sarebbe il caso e poi non è non è il mio stile francamente è impressionante vedere dal documentario quante persone ce lo stavamo dicendo fuori onda anche esterna al mondo della musica e a quel tipo di musica lo stimavano e lo considerano ancora adesso uno dei pilastri della musica e anche della cultura italiana hai ragione e questa cosa mi commuove lo dico veramente perché l'affetto con cui tanti artisti hanno voluto partecipare mi ha veramente commosso insomma pensare che da Vasco Rossi a Valerio Lundini da Nino Frassica a Roberto Vecchioni passando per Cochi Ponzoni Paolo Rossi e tanti altri figlio Paolo naturalmente Dori Ghezzi hanno voluto mettersi in gioco è meraviglioso e ti assicuro tutte cose ma poi penso si capisca molto partecipate pensa che Vasco è venuto due giorni prima dagli Stati Uniti per fare l'intervista il truccatore se l'è pagato lui ecco diciamo e oltretutto io di questo rapporto così intimo e di grande stima che c'era tra Vasco Rossi a Naci non ne sapevo niente sì perché perché sai cos'è allora intanto ci sono delle cose ti faccio un esempio tu pensa è già di Vasco Rossi cantatela nella testa sembra un pezzo di Naci ah ma di fatto lui lo dice lo dice che si è ispirato a quelli che è la stessa cosa se me lo dicevi prima sembra un pezzo di Vasco mi vengono i brividi giuro che è vero non è una cosa allora quando ho fatto l'intervista con Vasco veramente perché è stato un momento meraviglioso e a un certo punto lui ha detto no perché poi se me lo dicevi prima è un pezzo detto Vasco ti faccio vedere la scaletta e l'avevo posizionato prima di se me lo dicevi prima ho detto perché se me lo dicevi prima sembra un pezzo tuo nella stesura in quel sassofono nella struttura musicale ci sono molti punti di contatto perché non ci scordiamo che Enzo Iannacci è stato uno degli iniziatori del rock and roll in Italia insieme a Celentano e Giorgio Gabber quindi voglio dire e te bravo grazie ha studiato tenco suonava il sassofono anche lì è una cosa assolutamente almeno per quella mia generazione e lo cita anche in una canzone che parlare con il mio amico Tenco insomma ci sono tanti sottotesti dentro e chi li becca li becca c'è Vecchioni che dice una cosa bellissima dice che Iannacci aveva una letteratura dei sentimenti ed effettivamente se uno ci fa a caso al modo suo a modo suo per quanto fosse folle fosse sembrasse sconnesso e così illogico aveva un contenuto forte fortissimo fortissimo questa cosa io penso che sia importante ribadirla perché non gli viene mai riconosciuto abbastanza a Enzo Iannacci cioè tutti dicono ah che simpatico vengo anch'io eccetera ma c'è molto di più ci sono delle canzoni che esprimono un sentimento poi ti faccio un appunto ma così non vuole essere una cosa ma tu ci pensi che tutti questi personaggi adesso non voglio dire che la Laura però il professor Vecchioni il medico Iannacci l'avvocato di Asti il famoso avvocato di Asti e comunque anche di Andre Guccini che era l'altro professore sono tutte persone che avevano un loro percorso ma non un percorso scolastico avevano una cultura diffusa che distillavano nelle canzoni e che gli permetteva di fare quello scatto e di diventare altro cioè qua oggi insomma parliamo a di conduttori televisivi che hanno una vaga idea di cosa sia l'italiano non parliamo anche di canzoni no perché bisogna dirlo questo no 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 è molto vero un'altra cosa molto interessante che effettivamente è chiarissima a posteriore se uno ci pensa è il fatto che lui ha avuto un successo immenso senza mai rincorrere successo non gliene fregava nulla del successo e questa cosa lo avvicina molto a Vasco questa cosa lo avvicina moltissimo a Vasco è una cosa che io gli ho detto fuori non perché poi se no però è un successo a prescindere tant'è vero che lui poi ogni volta che faceva successo faceva una cosa completamente diversa come dopo vengo anch'io ma anche dopo ci vuole orecchio non gliene fregava nulla e lui continuava per la sua strada e credo che questo sia anche indice della sua grandezza cioè non c'era nulla di programmato probabilmente una delle ragioni per cui Enzo Iannaccio è stato un po' sottostimato anche nel mondo mediatico è che lui non ha mai fatto un lavoro come dire di posizionamento di ufficio stampa tu arrivai facevi un'intervista io l'intervista che ho fatto è venuto a casa mia perché parlai con l'editore ti dico questo che è bellissimo allora l'intervista dove noi finiamo l'intervista dove lui si divertì molto perché dice sai che la prima volta che faccio un'intervista si capisce quello che dico fa capire il personaggio poi dopo dice no andiamo a mangiare una minestra perché quel gioco quando dice io voglio andare a mangiare una polpetta dopo il cinema quindi andiamo a mangiare una minestra la nuova fiorentina a Roma volle pagare lui io ma non per il fatto di pagare capito io conosco pochissimi artisti che sono quando uno nasce signore io sono per cui per me è una cosa di cuore capito cioè anche gli altri ovviamente anche Pino Daniele però sugli Annacci ancora di più perché sentivo di avere un debito un debito di riconoscenza che abbiamo tutti che abbiamo tutti quello non ce l'ho solo io c'è la musica italiana e la cultura italiana esatto bene grazie mille a Giorgio Verdelli per essere stato con noi per Enzo Iannacci vengo anch'io qui dalla mostra d'arte cinematografica di Venezia io sono Angelo Acerbi per Fred Festival Insider grazie ancora Giorgio grazie mille a Giorgio Grazie.